A Cugno si è parlato di RAE, sono in arrivo novità tecnologiche per migliorare la ricezione del segnale del servizio pubblico che in alcune aree, soprattutto montane al momento, non è soddisfacente. Caterina Cannava. Il piano per la banda ultralarga porta in Piemonte quasi 300 milioni di euro di investimento, ma rischiamo di avere troppe persone che non riescono a connettersi con i cellulari, ad avere una buona frequenza per vedere la televisione, per telefonare e per accedere a internet. Servono strategie e investimenti per garantire a tutti i diritti di cittadinanza, come le telecomunicazioni, ricevere la tv, i segnali dei cellulari, i dati ad alta velocità. Per 600 mila piemontesi non è così, non riescono a vedere i principali canali RAI, né il Tg regionale del Piemonte. E la battaglia è portata avanti da tempo, da Corecom del Consiglio regionale insieme ai comuni di Unceme e Anci, che oggi hanno riunito in provincia di Cuneo alcuni vertici tecnici della RAI per chiedere interventi risolutivi. Sono fiducioso perché in questo momento abbiamo un contesto di legge che ci permette veramente di risolvere molte questioni. Certamente le cose si fanno gradualmente, però siamo partiti. Nel giro di un paio d'anni le cose principali saranno risolte. Una sistemazione dovuta anche ai cambiamenti in arrivo. La banda dedicata al 5G e il conseguente nuovo piano delle frequenze entro pochi anni, la radio digitale, costringeranno a manutenzione o sostituzione dei ripetitori e di molti apparecchi di ricezione. È un diritto poter usufruire dell'informazione locale e col tempo ci rendiamo sempre più conto che l'informazione di qualità, l'informazione giornalistica e ancora di più l'informazione locale è fondamentale per le piccole comunità. Il 14 febbraio a Palazzo Lascaris il Coricom fornirà i dati complessivi sulla qualità percepita del segnale RAI in tutto il pianeta.